Utenze non pagate, gli animi che si riscaldano, qualche parolina di troppo e scoppia il finimondo. Maxi Rissa ieri pomeriggio in uno stabile di Via Gentile, nel quartiere Punte Vigne a Gela, se le sono suonate di santa ragione anche la presenza dei carabinieri del reparto territoriale intervenuti immediatamente sul posto. Gli stessi militari dell'arma stento sono riusciti a sedare la colluttazione e a separare i rissanti. Uno di loro è stato colpito con un calcio all'addome e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Ne avrà per tre giorni e alla fine della contesa sono scattati sette arresti. I protagonisti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati collocati ai domiciliari in attesa del processo per dirattissima che sarà celebrato nelle prossime ore. L'accusa è di rissa aggravata. Gli arrestati sono Saverio Scilio, di 38 anni, Alessandro Scilio, di 37, Rosario Scilio, di 67, Davide Scilio, di 34 e Daniele Giovanni Scilio, di 31 anni. Fanno tutti parte di un intero nucleo familiare. Ai domiciliari anche Grazio Fauciana, 58 anni, e il genero di quest'ultimo, Monur El Kazan, cittadino marocchino, di 36 anni. I militari dell'arma, a seguito di una richiesta di ausilio giunta al 112, sono intervenuti con più pattuglie. La situazione era preoccupante. I setterrissanti, come dicevamo, anche alla presenza dei carabinieri, non hanno smesso continuando imperterriti. Pugni, pedate, schiaffi, un ring improvvisato. Trasferiti in caserma, sono stati identificati e arrestati. Grazie. Grazie.